Ripartiamo dallo sport con il Corriere dell'Umbria, l'apertura dedicata al Perugia, dunque siamo in Serie B, Grifo, quello spot da 21 passaggi, il gol di Iemmello arrivato al culmine di un'azione manovrata è il simbolo del calcio di Oddo. In alto però il fatto salta la prima panchina, quella di Rastelli, la cremonese pensa al ritorno di Baroni. Questo per il Grifo, andiamo a parlare di volley con la Sir Settebello Atanasievic, l'opposto serbo e alla settima stagione perugina stessa dice voglia di vincere. Fresco di titolo europeo, dichiara al ritorno in patria una festa mai vista e su Einen ha idee molto chiare. Intanto Coppa Italia, la finale all'Unipol Arena di Casalecchio. Questo era il volley da Perugia, andiamo a Terni, torniamo al calcio. I segreti di Anthony, Muslera, Bryant e i viaggi tatuati a tu per tu con il portierone della Ternana, il numero 24 dice, in onore del campione dei Lakers. Giannarilli è sempre decisivo, merito dice della mia fidanzata, è osteopata, dopo ogni gara mi rimette a posto e allora anche questo può servire. Ancora calcio, ancora Serie C, ma andiamo a Gubbio, la strada è giusta. Guidi elogia la squadra dopo il pari di Reggio Emilia. Cominciano ad arrivare le prime risposte, con Cesaretti potevamo andare sul 2-0 e nel finale con un uomo in meno ce la siamo cavata. Intanto eccellenza e promozione, torna la Coppa Italia, sono 5 i match, rinviata Pieveza Merina, si gioca alle 16. Ancora per lo sport andiamo in eccellenza, di Cato a emissione, voglio la doppia cifra. Siamo a Lama, l'esterno di Nuova Segno è già a quota 3, i bianconeri KO coltiferno, l'ex Gubbio è andato alla grande. E poi tiro dinamico, Umbria al top, 6 medaglie per l'associazione che ha sede a Passignano e campionati italiani, 3 argento con Moncada, Rometti e Bulgherini. Per il ciclismo, da Foligno, Bazzi, Canono al giro delle Valle Aretine, Silvestre e Pellizzari bravi alla Lugo San Marino. E ancora, ci sono anche le bocce, europei, stage di due giorni a terni per la Nazionale Juniors di Raffa. Ancora per le pagine di sport, ci spostiamo alla Nazione, eccoci qua. Grifo Melchiorri, l'ora del chiarimento. Gli agenti del calciatore hanno incontrato la società dopo lo sfogo di Oddo contro l'attaccante. Quan intanto si aggiudica la tappa con il Pisa come miglior grifone e ecco tutti gli impegni dei tre nazionali. Ternana, Palumbe proietti out, Gallo modifica il centrocampo. Il tecnico deve fare i conti con le assenze nella sfida contro il Bari. In Serie D, Foligno, Pettinelli, la mentalità è vincente. E per il Gubbio, ovviamente, Serie C chiamato a dare il massimo. Domenica, il Carpi, poi sfida a Bolzano. Ancora per lo sport dalla Nazione, l'Orvietana stasera ospita il Tiferno alle 20.30 semifinale Ducato-Ponte Valleceppi. E poi per la prima categoria Giacomo Calzuola è il signore del gol. Andiamo al messaggero per lo sport, Grifo diplomazia per Melchiorri. Gli agenti ieri in sede, il giocatore non ha preso bene l'uscita di Oddo dopo la partita con il Pisa. Tutte le possibilità sono sul tavolo. Per il tennis, lo junior debutta in A2 e fa subito il pieno. E poi lo junior tennis Perugia, ovviamente. Per la Sir, riecco Bata, stessa voglia di vincere. Ancora dal messaggero per le sue pagine sportive, ci spostiamo a parlare della Ternana. Tra Bari e Ternana, una sfida per la B. In Puglia cresce l'attesa per il big match. Non sembra di stare in Serie C, l'ex Antenu ci può fare la differenza. E poi dietro lo striscione, avversari in campo, amici fuori. La filosofia di Rocca Rosso Verde, che è un gruppo di tifosi del Ternana. Elena Benucci non si ferma, siamo a Terni, Argento ai mondiali di scherma. E poi andiamo a parlare di atletica, siamo a Foligno. Per la mezza di Foligno già record, iscrizioni a quota 600. Torniamo al calcio, Spoleto, Gagliarducci, Pensiero, arrivi top per vincere il torneo. Siamo in eccellenza, chiaramente. E poi ancora l'atletica, ma da San Giustino, stavolta la Lamarina ha fatto il pienone. Sono andati a correre ben 700 atleti. Questo per lo sport, che chiude la nostra rassegna stampa. Vi ricordo, come di consueto, il nostro TG, anch'esso in una forma rinnovata, a partire questa sera dalle 19.30. A voi una buona giornata.